Uscite! Quanto avevano ragione in collegio quando ci insegnavano che la carne è debole. A me ci fanno male i piedi. Ha studiato in collegio anche lei, anch'io, dalle orsoline. Ah, e si muove in questo modo. Eh, ma non sono più le orsoline di una volta. Perché? Il mio cuore è puro. Sì, ma non dicevo il cuore. È tardi. Oh, anche gli altri fanno tardi. Lo prego, andiamo. Ma perché? No, no, è troppo tardi. E va bene? Non è male come archessa. Troppo bacano. Ehi, Gianni. Salve. Ciao. Dovete qualcosa? No, devo riaccompagnarla a casa. Le presento Duccio, Lorenzo e Pino. Ti vedete. Buonasera. Non vorrà mica lasciarci soli, no? Purtroppo è tardi. Buonanotte. Mi spiace, creda. Di che? Ci vediamo dopo, eh? Ti aspettiamo. Come al solito. Accidenti. Io non so dove le prendo. Io so dove le porta. Io non so dove le prendo. 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 Grazie.